Salve a tutti, sono la dottoressa Silvana Di Martino, biologo nutrizionista. In questo post affronterò argomenti e patologie che ogni giorno si presentano nel mio studio, come colesterolo, trigliceridi, tiroide, pressione alta e tutto ciò che è inerente all'alimentazione in base a queste patologie. La prima cosa che si fa quando si viene nel mio studio si esegue un peso, un'altezza, un esame bioimpedenziometrico. Che cos'è il bioimpedenziometro? È l'unico strumento scientificamente testato per noi nutrizionisti. È un apparecchio fisico dove si misura resistenza e reattanza e ci permette di vedere lo stato attuale fisico-nutrizionale, ad esempio come massa corporea, massa grassa, acqua corporea, altezza, peso e metabolismo basale. Da lì, in base alle proprie esigenze e in base al proprio problema, se c'è, di patologia, andiamo a creare un piano specifico, individuale, fatto naturalmente di carboidrati, proteine, lipidi, sali minerali, vitamine e acqua corporea. Seguiteci, vi aspettiamo!